Molto tempo fa, in una terra lontana, io, Akur, il maestro delle tenebre, scappera le terribili forze del mal. Ma uno stupido guerriero samurai, randendo una spada magica, si fece avanti per combattermi, prima che potesse sferrare il colpo decisivo. Io aprì una porta nel tempo e lo scaraventai nel futuro, dove la mia malvagità è legge. Grazie per la visione!